E cominciata ieri la ventunesima edizione di Vassi Insieme, la manifestazione sociale organizzata dall'Associazione di Volontariato Il Gabbiano. L'evento, che si concluderà il 5 agosto, è organizzato come da tradizione nella frazione Vassi dal comune di Giffoni Valle Piana, in una quattro giorni fatta di gastronomia, spettacoli e divertimento, ma anche di tanti momenti di approfondimento culturale sugli argomenti più dibattuti negli ultimi mesi. Questa sera alle 20 spazio al primo approfondimento con l'incontro dibattito Associazioni Solidarietà e Territorio, moderato dalla giornalista Letizia Gianicola, a seguire lo spettacolo dello Schiuma Party. Sabato 4 agosto, a partire dalle 20.30, ci sarà la consegna del premio per la solidarietà Giampiero Foglia 2018 a Don Antonio Loffredo, parroco di Santa Maria della Sanità di Napoli. A premiare le istituzioni locali è il senatore Alfonso Andrea, premiato a sua volta dall'Associazione nell'edizione 2016. Subito dopo, spazio alla musica folcloristica con lo spettacolo delle Sette Bocche. La serata conclusiva in programma domenica 5 agosto inizierà con una tavola rotonda intitolata Storie di incontro e di accoglienza, durante la quale verranno consegnati diversi premi gabbiano per le persone che si sono contraddistinte nel tema dell'integrazione. Grazie a tutti.